Io sono, cioè, devo rispostare la webcam più giù, non me la fai cagliata, non mi alzo, si vedrà metà mia fatta, metà me e metà mobile. Salve! Non c'è nessuno. Io sto salutando, ciao. Con la manina. Ciao ciao, facendo così, Cree. Oh, devo cambiarmi cerotto. Dovete capire che io sto male, ma ho passato le ultime due ore fuori a tagliare i rami, piegata, perché stavo male, e mi sono anche fatta male un dito. Come il report. Oh, guarda che sei tu quello che viene bandato, bannato. Eh vabbè, oh, devo... Sì, sì. Mi sentiva solo, e quindi, giustamente. Sì, sì. 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 Ciao, Josh. Ok. Buonasera. 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 Imparerà meglio lui l'italiano o prima di me l'inglese bene? Non sono certa. Le parolacce sicuramente, dato che non sono quelle che l'inglese. Beh, cosa impari di una lingua per prima cosa? Le parolacce. Le parolacce. Mi sembra scontate. Le persone con cui parli sono come me, che mi dicono solo parolacce. Ma non è vero. Le dico anche in inglese, nel senso, in italiano mentre parlo in inglese. Ok. Chi è, Walter? Con l'anica. Ok. Chiudimi. Che è dall'altra, eh? Con le mie chiavi. Eh, cosa vuoi che ti dica? Con le mie chiavi. Fa molto ridere. Ma la chiudi la porta? Usa le mie chiavi. Quella rosa. Ok, ce la possiamo fare. Campagna. Stavo giocando per i due, vero? Sì. Continua. Selezionate lo sa, a me penso mi prenderà in automatico lo slot ultimo. Perché non me l'ha chiesto... Non me l'ha chiesto. Non mi ha chiesto di scegliere. Josh! Io non mi ricordo come si gioca. Cosa vuol dire? Non ti ricordo come si gioca. Ma lo dimentico ogni volta. Ma ricomanditi, rivediamo adesso. Aspetta, ma avevamo preso almeno due stelline in qua. Al momento. Ok. Sì? Prese. Non l'abbiamo interrotto senza raggiungere l'obiettivo, ovviamente. Eravamo state delle brave personcine. Eravamo state delle brave personcine. Ci sono stati dei bravi. Ci sono amici. Chi? Io oggi? Ascolta. Settimana... Venerdì scorso, Filippo è tornato a casa con... Non si sa cosa, ma tutti i suoi colleghi e lui avevano sicuramente un virus intestinale. E sono stati malissimo. Malissimo, malissimo. Chi se l'è preso poi dopo che Filippo è iniziato a stare meglio? Ovviamente io. Sì, sì. Simpatica la cosa. Filippo adesso è di nuovo malato? Si è preso un'influenza, penso. Ce ne stiamo... Ping pong. Bello. Molto, molto bello. Ampliglioso. Yay. Allora, decidiamo chi comanda oggi, dai, dai. Chi è che dà gli ordini oggi? Beh, la bossi sono io in questo gioco. Ok. Però... Allora, l'ho fatto. Ordine a cipo. Questo cos'è? Oh, ma qui c'è... Qui dobbiamo fare... Schifo. Vabbè, a parte schifo. Sicuramente schifo c'è l'alcalena. Allora, io e Mari siamo su. Ok. Io mi metto... Che ne dite se mi metto in mezzo e vi lancio gli ingredienti? Eh, potrebbe essere un... Ok. Allora, aspettate. Come fanno le cose? Io non so più i tasti. Aspettate. Uno. Mi devi lanciare la racca. Sono morta! Aspetta, sì, sì. Ho lanciato... Ma Ellie, dov'è? E lì è caduto. Ellie è sparito. Ellie è caduto? Sì, no, è sparito proprio... Uscito dal gioco. Quindi ci devo... Eh, sì, sì, sì. Mi ha chiccato. Mi ha chiccato. Aspetta, aspetta, adesso ti... Allora, riusciamo. Dai, dai, dai. Andiamo da... A prenderevi che se no non ha senso. Ma... Sono uscita perché a parlo. Purtroppo devo uscire e tornare alla schermata. Va bene, è morta. Caput. Schermata principale per reinvitarlo. Gioco cattivo, non si sa. Esatto. Ma... Ah, no, aspetta, ma proprio principale, principale. Ah, no, 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 no. Gestisci squadra, posso farlo da qua. No, c'è solo abbandona. Non c'è un più. Ah, fai più. Adesso c'è un più. No, non me lo fa fare. Non mi ci fa andare. Fa per fare che... Scusai. Non mi ci fa andare. Non sono. Tu sei legato. Quindi devi fare abbandona e rifare da capo. Sì. E fa... C'è... È un po' stupido. Con le mani, con le mani, con le mani... Mi è arrivato un nuovo powerbank. Sempre della stessa marca. Dopo sette anni l'ho cambiato. E speravo... Cioè, pensavo... Cioè, della stessa velocità... Come ci sei? Della stessa velocità, forse... 10.000 bilan per fosse più leggero dopo sette anni. È più pesante. Me l'ha spiegata questa cosa? No. Non ha senso. Ha accettato. E lì è arrivato. E lì seleziona la cosa. Buonasera. Buonasera. Se non vuoi giocare con noi, basta dirlo e... Buon, ti invitiamo più. No, perché non vuoi più giocare, basta. Ma chi chiamo fuori, Cri? Ci pensai al gioco? Mannaggia, raga. Ok, riproviamo. E lì non uscire. Ci servi. Ma fanguro. Mi ha fatto cadere due volte e mi ha chicchato il gioco. E niente. Esatto. Esattamente. E niente. Cioè, adesso io ho scritto... Lo picchio davvero, Filippo. Ho passato la sera anche a ritirare la legna e la stai incasinando tutta. Cioè, no. Ok. Come si trovano? No. Così muori? E lì. Mi prego. Ma che ca... Paffè. Ok. Di genere ti dici... Tenete. Tenete. Allora. Tenete. La carne non te ne fai niente, Eli. Fate il riso per ora. Rompi i coglioni. No. Togli il riso. Ok. Ah, ok. Vi mando a voi, quindi. E le shell, diciamo. Però qua ce n'è una pronta. Bisogna solo metterci il riso, eh. Ok. Allora passamela. Poggiala qui sopra che gliela passo. Perché hai poggiato il riso? Poi la devi riportare qua, eh. Ah, è da consegnare lì, ok, ok. Ragazzi, il riso poggiato in questa che vi sto portando. Eccola qui. La carne è pronta. Cioè, allora, se mi portate da questa, i panini, cioè i cosi già pronti con il riso, io poi ci metto la carne e lo consegno. Ma questo riso non è pronto? Adesso è pronto. Questo qua sì, aspetta. Ok. Questo è pronto. Ok. Senza la carne, la carne già la mette mai. Oh! Ti ha salvato il piatto, Cree? L'ha salvato, l'ha poggiato qui. Si ringrazia il bug del gioco per una volta. È poggiato qui sopra. Ok, questo è Polo, lo consegno, va? No, fanno il cazzo di voi. Mi sono lavate i capelli con una cosa nuova e sto odiando profondamente l'odore. Ops. No. No, beh. No, ma... Ellie, non devi fare il bagno nel gioco. No, ma sono stata io. Ah, allora, qua c'è una shell. Anche lui. Qua c'è una shell con il... Cosa cazzo? E qui c'è un... Mi sembra il piatto, ok. Oh. Com'è che è sparita una pabella qua? Perché il gioco è impazzito. Ari, ti ho messo un riso e un uccello di fianco, l'hai trovato? Allora, il collo è qua, sì. Questo dove mettiamo a cuocere. Ah, qui manca il riso. Ecco qui. Ah, questo non è cotto, ok. Questo è pronto. Sì? Sto cercando di capire, non sto scappendo un cazzo. Allora, il prossimo è comunque... Eh, non so perché l'ha preso e lanciato, va bene. Questo è un pollo. No, il piatto è il piatto è il piatto è il piatto. Oh, spai che forse lo salvo. Ehi, spostati. Perché non me lo fa prendere? Me l'ha fatto prendere. Salvato, Chris. Salvato. Ti porti la shell? Sì. Allora, questo è con riso. Ah, cazzo, vuole pollo. Il riso sulla destra è pronto. Ti è piaciuto? Il riso sulla destra è pronto. Vuole ancora pollo. No, è lì, nella shell, non in acqua. Io consegno questo con manzo perché altrimenti... Eh, fai, fai. Non ce la facciamo. Dove sono? Ok, sono viva. Vabbè, ti do una mano, togli un po' di pollo. Ho messo un po' là a cuocere. Questo c'è solo il riso, sì? Bisogna consegnare. Allora, riso è quasi pronto. Oh, che palle, me l'ha mischiati perché è un pezzo di merda. Cioè? Niente, era quasi... Eh, no, non mi ha messo il pollo nel riso ma mi ha messo il pollo da solo. Aspè, lo consegna, va. Però adesso è pronto. Ok. Allora, c'è un altro pollo e non abbiamo pollo perché abbiamo solo manzo. Guardate, amici, che qui c'è un piatto pronto. È senza piatto, però è pronto. Eh, il problema... Il piatto è giù, c'è un piatto giù. Spera, vando a prenderlo. È lì, prendi... No, togli il riso, amici, togli il riso. Eh, niente. Questo... Questo... Uh! Per me è... Per me è una stellina. No, no, riproviamo. Riproviamo. Eh, dobbiamo farci. Va bene. Eh, gioca di nuovo. Sig. Perché non va al cerchio? Eh... Ah, perché dovete farlo anche voi. Accidenti. Accidenti! Accidenti! Perché mi fate il verso? Con le mani, con le mani, con le mani... Allora... Oggi ho passato la giornata a fare formazione... C'era la formazione sicurezza e il tipo continuava a dire... Eh, non parlate tutti, non parlate tutti, io che rispondevo ogni volta. Poi ho scoperto che non mi sentiva. Dopo sei ore. Quindi non ce l'ha mai avuta con te. No, no, ce l'aveva con me, ma non mi... Ce l'aveva esattamente con me, però io non avevo capito che non mi sentivano. Perché all'inizio non mi sentivano. Michi, risa. Lo sto lanciando appena sono vicina. Minca! Ha rimbalzato. Ah, è fin... Così impari. C'è spazio per uno qui. Maria, ti sto lanciando le shell. Ma a me non me ne faccio... Io non me ne faccio un cazzo. Ah, le devo lanciare dall'altra parte? Ok. E beh... Perché loro devono metterci il riso, altrimenti poi il riso non lo possono dare a me. Guarda che lì hai un piatto con una shell e un riso cotto, ragazza. Infatti, già preso. Con fatica, perché... Io dicevo amici. Io... Ma era di là. Il pinguino era lì che lanciava cose, ma... Oh, non l'avevo visto. Eh, appunto. Perché stai lanciando... Le shell... Le stavo lanciando in mare. Non me ne lanciavo più un cazzo di shell. No! Ho salvato quel piatto! Dammi una shell. Dammi una shell. Dammi una shell. Aspe. Ciao, Infinite Dream. Oh, ok. Questa la consegna. Eli Riso! Benvenuto. Benvenuta. Non lo so. La pizza. No? Si fa... No, perché? Boh, roba messicana, immagino. Ehi, sei una ragazza anche tu. Sì, sono una bella princesa. Ehi, le cade in acqua così! Ho preso il pollo. Perché ho preso... No. È la cosa che cambia. Oh, abbiamo perso quel piatto che c'era in mezzo. Brutto stronzo del... Oh, non l'abbiamo perso. Non l'abbiamo perso. Riso. È qua, è qua. Aspetta che recupero il piatto. Riso, pollo. No. Ti sto portando una shell. Pronto? No! L'ho salvata. L'ho salvata. L'ho salvata. Crippor, tagliela. Il prossimo è manzo. Togli. Dove sono? Ah, qua. No, dove cazzo me l'ha messo da una padella all'altra? Ma perché? Ok. Perché è stronzo? Sono viva. Sono viva. Perché c'è... C'è... Ok, il piatto lo prendo da qua. Non so perché mi sono presa. E questo te lo poggio qui, Mari? Ah! Ah, c'è un altro. Glielo porto io, va bene. Manca il guscio. Manca il guscio. Manca il guscio. Ok. E li metti nel piatto? Nel piatto, nel piatto. Sì, i mici che stai facendo? Ah, qui c'era un piatto. C'è, io faccio. Ecco. Ehi. No, 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 no. I piatti sono tutti giù. Ok, ok, ok. L'ho preso mincelle. L'ho presa... No, ho perso me stessa. Ho perso me stessa. Ok. No, no. Però sta andando bene. C'è, abbiamo la mancia... Bella fu... 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 Allora, lanciatemi altra carne se siete lì perché io ho paura a spostarmi da qua. Infinito è una storia. No, ma che ca... Infinito. Ma porca miseria. Ma perché? Mario, te la sto cercando di lanciare il pollo, ma lo lancia in acqua. Non fa niente, non fa niente. Un pollo cotto ce l'abbiamo, così giusto per saperlo. Ok, perfetto. Qua c'è un piatto. Poggio. No, no, no. Cosa cacchio è? Chi mi ha dato il riso in mano? Ok. Se c'è una carne pronta, qua c'è un... Ok. Qui è pronto. Ok, qua c'è una carne pronta. Vado. La stai consegnando? Sì. Adesso dobbiamo smettare. Riso qui. Oh no. Ok, vabbè, fai niente. Riso. Ok. E adesso è pronto anche il pollo, quindi... Vabbè, il manzo l'ho consegnato. Ok. Mincatelo, ti ho messo il pollo per un pelo lì, eh. È stato perfetto. Non faremo spiegando fuoco. Il tempismo perfetto. Cioè, prima abbiamo fatto schifo e adesso siamo stati bravi. E che dovevamo ricord... Eravamo due settimane senza giocare, quindi dovevamo ricordarci come si gioca. Comunque. Abbiamo tragiardato. Siamo bravi. Quindi sono tre stelle, ragazze. Eh, non cagliamo fuori adesso. Eh, no. O tre stelle o si rifà. No, non cagliamo fuori. Ascolta, non fare gli uchi della situazione. Ci pensa il gioco tanto ogni tanto. Dovevo portare avanti? Eh, certo. Giochi da solo. Non c'è problema. Anche perché non mi ricordo cos'è il prossimo. Il 4-1 è un pochino... Stiamo passando di livello, quindi. Ok. Ma adesso si arriva all'amorlonto della cucina. Ma aspetta, e dov'è il prossimo? No, noi siamo uno contro l'altro. Siamo tutti assieme. Assieme contro le persone che vogliono mangiare. No, non è vero. Dove dobbiamo andare? Scusate, mi aspettate. Sto cercando di capire... Glielo spiegate voi il gioco? Che io sto cercando di capire. Sì, immagino... Praticamente siamo una squadra. Dobbiamo collaborare. Dobbiamo collaborare per servire i piatti nel tempo definito e fare abbastanza piatti per fare punteggio. Ok? A un certo punto le stelline che accumuliamo col punteggio serviranno per sbloccare altre zone. Soltanto che coordinarsi tutti insieme non è la cosa più semplice. La cosa è che finiscono amicizie con questo gioco. Dobbiamo aiutare il Recipolla. E adesso tipo facciamo... Recipolla e soprattutto... Va bene, andate. Me ne vado. Va via, va via. Non mi fanno... Non mi fanno accarezzare il cane, quindi io me ne vado. Sti antipatici. E' sicuro che giocare in quattro coordinandosi non è così semplice. Non è così semplice. E' molto peggio che giocare in due. E io che penso... Oh no! E... A ogni... Ma no, dai, qui ci va abbastanza bene, non c'è molta dispersione. Ragazzi vi investono. No, fidati che finiscono le... La cosa è che io e Gnaglia abbiamo già giocato la maggior parte dei livelli, quindi ogni volta che vediamo un livello facciamo... Oh no! Oh no! Però è per tutti. Tutti i livelli. Quindi non so quanto sia... Sì, allora, ma secondo me questo qui in realtà è facilotto, perché l'unico è che ci investono. E che farà l'unico è che ci tirano sotto. Gli ingredienti escono da qua e muoiono. Andranno pure da là. Gamberetti. Gli ingredienti escono da ovunque. Alga. Piatto. Ah, a parte i cetrioli. I cetrioli... Ah! Gamberetto è da tagliare con segno... Non è che mi lancia i... Sto imparando i comandini. Allora serve... Serve un gamberetto. Ah, gatti! E qui è Milano. Serve il pesce, ragazzi. Ma cosa è successo? Sì, è tutto di là nella spazzatura. Perché avete messo un pesce? No, il pesce è crudo. È sushi, è sushi! È il piatto! Ah, devo tagliarlo? Sì, va ti becchio. Aspetta, aspetta. Ah, aspetta, però. Quello che cos'è, ragazzi. Allora, quello giusto, quello è giusto. Dove tagliare, ragazzi? Ah, è qui. Sì, dove c'è il salmone. Questo lo poggio solo qua, perché è da consegnare. No, non lo posso poggiare, perché... Non lo posso poggiare, non è salmone che dobbiamo consegnare. Il gamberetto è lì pronto a tagliare, però non abbiamo piatti. No, non è tagliato, è da tagliare, sì. Un piatto c'è, ok. Consegna quello e io consegno questo qui. Perfetto. Allora, il prossimo è solo... Ah, è morta! È solo salmone. Bisogna lavare i piatti? Il salmone c'è, ma non abbiamo il piatto. L'ambulanza, sì, sì, l'ambulanza è per noi. Sono da lavare. Sono da lavare? Porca puttana. Ok. Li lavo io, li lavo io. Ok. Allora, mettiamo il riso a fare. Io non so perché, ma state poggiando. È appoggiato sul tagliere? Ok, a me manca il pesce. Allora, c'è un salmone... Signora, per favore, signora, porca puttana. Mari, non è da consegnare quello. È da consegnare quello qua, eh. Ma poi, ecco quello. È da consegnare il salmone. E sappiatelo, perché sono tipo morta. Vero? Anche io. Io che ti inseguivo. Mi hanno speso proprio, cioè. Sono diventata io... Oh no, c'è il riso. Qualcuno può togliere il piatto col riso? Per favore, grazie. Ok, vado a consegnare il salmone se non mi ammazzano. Questa è un centriolo. Taglio un centriolo. È lì, non devi buttarlo. Non lo fa... Allora, c'è morta. Mi hai fatto morire. Ok, taglio un centriolo. Oh! Qui, qui, qui. Non si vede perché è pieno di gamberi. Di tutto. Perché lì non fa altro che portare gamberi e cose? Non sappia neanche dove appoggiarle. Eh, ce ne siamo accorti. Sto facendo la mia casa. Oh mio figlio, c'è un gambero in mano, non so che fare. Perché ho un pesce in mano? Ma io, c'ho sta signora che mi blocca, bagassa maledetta. Poi uno dice, com'è che imparano le parolacce da te le persone? Ah, ma il capo è fatto un... Josh, are you learning new swears? Porta un salmone, poi serve un cetriolo più salmone. Eh, morti. No, neanche una. Non possiamo stare tutti lì. Perché era davvero un casino, no? Oddio. Dobbiamo capire come non fa, non fa. Allora, uno sta, prende riso e alghe. Ok. L'altro fa pesce. Uno consegna. Consegna e lava i piatti almeno, perché sennò rischiamo... Perché chi consegna potrebbe avere i piatti lì, in effetti, quindi... Sì, riesce a lavarli. Consegno io, consegno io. Consegna e lava i piatti, ok. Allora, io metto a cuocere il riso. Tu vai a prendere il pesce, allora è un piatto. Due piatti di alga qua, i piatti sono pronti già con l'alga, adesso appena arriva l'alga, la prendo. Ok, entrambi hanno il cetriolo. Due piatti con l'alga. Ok, io sto facendo i cetrioli. Il cetriolo più salmone. Adesso un po' di riso. Allora, il salmone è cotto. Datemi un salmone. Scusate, è tagliato, quindi lì. Ok, 1 e 4. Si, manca solo il riso, si, è da consegnare... Ah, minca se è bagato il gioco. Ok. Poi, il prossimo è il salmone. Non serviva, ma lo metto qua. Alga. L'altro piatto. No, l'alga sul tagliere, perché c'è in casino. Si, cazzo. Allora, salmone. Civile. Cazzo, mancano solo le persone a rompere i coglioni. Ok, consegno. Se non mi investono... Ok. Ah, ma non ce ne serve. Ok, solo gambero. Solo gambero, c'è già tagliato. Ok, spettacolo. Appena avete il piatto, consegna. Fai Eli. Perfetto. E poi solo salmone. Ok, Eli, lava l'altro piatto, perché... Ok. E poi un sushi con il riso e il salmone. Salmone c'è. Perfetto, un salmone è pronto, l'altro salmone è solo salmone. No. Quello è da consegnare così tra poco. Prima bisogna consegnare l'altro. Aspetta, Marli. Vabbè. Ok. No, non fa. Fai Eli. Ok. Vai. Ok. Il prossimo è solo gamberetto. Ok. Solo gamberetto, poi solo salmone. No. No. Madonna. Vabbè, almeno il salmone ce l'abbiamo, il gamberetto uscirà. Gamberetto. Il salmone è morto. No, vabbè, hanno investito una persona... Un disabile. Un disabile. Allora, c'è proprio un gioco senza scrupoli. Allora, un cetriolo toglio io. E lo ti attito, raga. Ascolta. Allora, questo qui è solo salmone. E c'è... C'è il piatto, c'è il piatto. C'è il piatto Eli, consegna. Eli, ti Eli, prendilo. Eli. Eli. Ok. Ma no, l'hai usato un cetriolo. C'è il mano, lo consegno. Ok, il prossimo. Poggialo Eli. È uno. Allora, un sushi cetriolo. Il cetriolo c'è. Il sushi qua. Ok, vai Eli, senza morirne però. Madonna, l'hai visto? È uscito per morire. Un altro sushi. Ok, questa è... Sei molto pronta? Sì. Salmone. Oh, cazzo, ho beccato quello, scusatemi, scusatemi, ho sbagliato. Eh, vabbè, ormai fincici di mettere anche il cetriolo e via. Consegna, consegna Eli. Ah, no, ci serve il gambero. Ma è intessa... C'è troppo sì? Mi faccio in tempo. Dare in mano. No, chi mi ha preso il cetriolo? Dami il cetriolo! Mari! Ma cazzo di signora! Ok. Spostatevi! Ma io dove sono? Ogni tanto mi glitcha dall'altra parte. Allora, qua c'è un alga. Guarda come glitcho continuamente. Signore, mi pare temporaneo. Ma io direi che vai avanti. Vai avanti, dai. Comunque ragazzi, per 17 stelline... Per essere solo il secondo livello di oggi... No, 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 non ce ne fai da niente. Io la ce ne fai da 17 stelline. Solo 17 stelline. Ok, aspettate che mi metto meglio. Quando è morto Eli e l'hanno investito col piatto? Ci ha fatto lì. Ha tolto più punti perché era disabile. No, non altro con l'aggravante perché... Capito, è proprio senza regole. No, no, le regole ci sono. E che la regola è che si danno alle macchine, non prendi un cazzo di te. La regola è che le macchine non fanno... Ma come l'abbiamo schifata malissimo? devo scegliere devo portare io ma perché c'è acqua no lo diciamo per tutti e paludoso questo non lo so se l'abbiamo fatto si mangia allora certo c'è il rullo che porta nell'immondizia come prima quindi dobbiamo stare attenti a non perdere tutto la cuba e pomodoro vuol dire che abbiamo da fare un b o no da fare il fritto se patata no pollo a noi da tagliare prima a mano noi lì te l'ho mandato per niente da tagliare prima e ve lo passo così prendetelo al volo non puoi lanciarle tagliate grazie e che posso lanciarle tagliate il problema che gli ho lanciato e dite nell'acqua altra verdura che non ce l'avete anche voi per tagliare perfetto perfetto cosa ce ne facciamo di questo hai da consegnare così va bene sono qua sono da lavare la verdura prima del polno sto aspettando lo sto poggiando il pollo avete piatti consegnano la verdura allora è la vecchia per un pezzo di polo poi le patate allora metto a cuocere una patata o sono da lavare i piatti basta sono da lavare i piatti nell'acqua asciuda lascia la terra patate ne servono tante ma lei direi a patata come le ha buttate ragazzi sul rullo mici sul rullo le patate pronte grazie a noi non abbiamo il piatto c'è un piatto consegno 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 vi sto rendendo il pollo esatto se consegniamo le ho messo già le patate a friggere le butta ma perché c'è un pollo intero nella friggitrice perché bastardo lo lancio e si dice lì dentro allora abbiamo una patata cotta serve il pollo il pollo cotto ma lo abbiamo il pollo cotto da qualsiasi no a cuocendo sta facendo sta facendo cielo io ok quelle parlate premio perché tanto vanno nella merda ok perfetto le patate ma le patate consegnate mari la friggitrice è morta io ho consegnato entrambi con le patate e che ce n'è perfetto adesso con le patate adesso taglio una video vi sto passando i piatti da lavare il pollo il pollo stand a tutta nel pollo ciao pollo grazie dove era il pollo ma lì e niente eccovi che la tua casa non c'è una friggitrice io cosa c'entrano la friggitrice torna sì sì la friggitrice torna il pollo ha preso fuoco aspetta vi passo l'estintore to allora io le patate in mano ma non ho il piatto quindi ai piatti sono tutti della sì ma i piatti non è che ce li date e noi il fatto che li possono dare a 11 al no si ci tocca rifarlo ragazzi questo è di 95 punti ma non è se il minimo 50 crisi suicidata ma che minimo 50 ma quando mai allora consegniamo a cazzo le patate però almeno toglia ma stiamo morendo facciamo prove tecniche se non ce li passi i piatti ce li hai tu i piatti comunque le patate erano crude abbiamo consegnato patate crude dobbiamo fare cose no non le abbiamo consegnate perché non se le fa consegnare le patate crude ma esattamente perché lì la c'è perché possono tagliarmi che loro sì ma loro devono tagliarci la lattuga perché loro non la lanciarla noi allora patate abbiamo una patata un pollo il pollo è stato il pollo è cotto e io ve lo dico anche la patata è cotta grazie cosa è successo vabbè no ma perché mi avete dato un pollo crudo così per curiosità allora c'è un piatto consegna 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 ciao piatto addio è stato bello piatto è risultato la è risultato la è risultato la e ne ha risultato uno anche qua ok allora patate pollo è in te zio bimbo fai genio del mio pit e li dagli patate non lo posso dare un cu vieni patate addio patate tagliare una lattuga vi passo i piatti da lavare la lattuga sul tagliere anche pomodoro serve una lattuga un pomodoro allora lattuga vabbè tagliare tagliato questo questo qui ve lo passo a voi no pomodoro in effetti sì perché a noi non brucia niente in teoria poi c'è un piatto già ma lanciare poi anche lanciano ma che è uguale no non così però è intendere a me ma va bene uguale non importa allora dopo c'è un'altra lattuga ho visto il pollo ma come si avvicina a te ne avete pollo ce l'ha pronto e le ho preso prendi 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 dammi il pollo 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 per dopo lattuga c'era un piatto servo un piatto dove è la friggitrice e lì se la porta a passeggio ok una lattuga a consegnare patate crude dalla cuocere vi avvicino i piatti da lavare adesso allora un insalata un pomodoro allora questo io ve lo lancio anche se bo perfetto dai che cavolo anche un pomodoro ci serve qui per favore è un piatto grazie lì ci serve anche un piatto e le patate io ho un piatto patate a solo pollo non fa niente dai lo consegniamo lo stesso che lo consegniamo a sti cazzi saranno contenti servono un paese un piatto un piatto mi serve un piatto vuoto ok si si l'ho visto anche a me anche a me servono la verdura si patate ne abbiamo in cottura si si ce l'ho ce l'ho cotto cotte col piatto vieni qua ottimo col piatto e come arriva maledetto gioco in merda no lancia appena mi dai il piatto mica l'allentatore volevo lavarlo ma l'ho lavato nell'acqua muci ok serve la ok perfetto allora lanciate un pollo serve una lattuga anche e i piatti da lavare eccoveli zio bimbo ma il piatto volante adesso è caduto il pollo sta andando nella spazzatura il pollo il pollo il pollo è il pollo grande critico o chiunque lo salvi la lattuga in un piatto per farlo vabbè ma forse dai niente signori devo scrivere quello che sta male grida come un generale in guerra va bene che pizza voi così non urlo che amari mi prende in giro ogni volta quello che lo chiamo tipo così sì che pizza vuoi in realtà gli ho scritto che puzza vuoi quindi vediamo che risposta arriverà e non puzza di un pannolino ovviamente va da bunciaccia porca miseria 4.3 ok qua almeno non dovremmo cadere almeno no quello lì è una voragine quella è proprio una voragine cadiamo 100% invece qua non dovremmo cadere poco ho capito tutto tra l'altro le voragine sono vicine a dove ci sarà il cibo che scorre cosa sta su no ragazzi siamo ok 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 perché maria è già morta non morire perché sento qualcuno mi sento doppi chi c'ha la live aperta la roba da tagliare che io ti sento doppia che senza ci senti doppi se come se c'è qualcuno avesse la live aperta mi risento ho lanciato la ma ma la e la natura non è per solo ce l'avete vista sono io perché stai urlando dove si taglia raga dove si taglia ce l'hai lì per tagliare l'unico che taglia è di lanciarmi roba addosso però e non mi tagliare no bisogna assolutamente che qualcuno vada alla carne ok allora allora asco questa cosa cambia verso come cambia verso e lì ci serviva non ci sto capendo niente aspettate io con le pelle allora facciamo una cosa appena adesso lo iniziamo giusto analizzare un attimo qualcuno rimane a cucinare la carne perché se non casino qualcuno rimane a tagliare e gli altri fanno i panini e consegnano e fanno la lavano i piatti ok si bisognerà capire cucinare io vado io vado alla carne aspettate ok perché io appaio nella carne ma il problema è che non ho nulla e quindi non posso fare nulla se nessuno mi lancia nulla lancio io ti lancio la carne io aspetta ok ferma di perché serve la carne ok e ci sono solo bene va bene rinizziamolo però comunque perché abbiamo perso un certo tempo allora facciamo così a me qualcuno mette la carne vicino tanto mi sa che l'unica cosa da cuocere la carne giusto quindi io posso andare al volo a tagliare lì di lato e li usa solo il tagliere di su e io uso il tagliere di giù ce la fai senza morire no però non perché non mi fidi di te però io ce la faccio in teoria la sto lanciando là la sto lanciando di là che ti è più comodo no allora il problema è adesso grazie allora uno è senza il primo è senza lattuga ne faccio uno con la lattuga però è col formaggio metto però col formaggio quello era deve tagliare la carne lo no la carne non la posso prendere mari la carne qui questa cosa è pronta si ok aspetta di lato giù nella ok fatto presa il prossimo a formaggio e carne o no non fa niente se un altro formaggio tagliato per favore una carne pronta qui serve un formaggio carne pronta ok allora questo consiglio è consegnabile la prossima è solo perché ho questo in mano serve i piatti dove sono raga no no c'è gli aeli grazie allora ok carne qua qui formaggio carne pronta ce n'è sì sì che mi serve metterlo lì quello è da consegnare così crei lo consegno esatto il prossimo è formaggio e carne io lavo il piatto lanciatemi carne cosa cazzo è successo mi ha rimbalzato in testa il tuo cappello ha infatti il cappello lì non lo posso prendere mari come torni lì per favore potresti darmi il piatto poi allora si manca solo carne qua vado a prendere il piatto lo stavo chiedendo a mare apposta perché lì è difficile passare ok toglie quello qui esatto consegna faccio io sì rimettila qui rimettila qui grazie ok il prossimo è formaggio pane prossima carne ok preso questo è pronto ok il prossimo è solo carne c'è un piatto lì ok se non te lo so che lancia la carne di lavari non è più aiuto non so dove sia però l'altra vuol piatto anche un formaggio e una lattuga cazzo è lì sta per finire il tempo del panino solo carne la carne la carne la vicina la vicina perché sono in sedia rotelle è consegnato che il prossimo anche il formaggio ma scusa io non ho consegnato il panino con la carne ma perché non lo vuole non l'ha non l'ha preso non so cosa sia successo qui c'è una carne aspetta tieni non so cosa è successo c'è un formaggio ma io lo consegno non sta finendo il tempo possiamo aspettare allora il formaggio d'acqua fai non ce l'ho fatta ok qui fai questo con la carne consegnalo e poi anche l'altro col formaggio va tutte e due chi è morto il prossimo formaggio carne e pane ok perfetto formaggio c'erò mi serve la carne la carne adesso dai che forse ce la facciamo ok il prossimo a carne qualcuno mi piace a quel patti che andato a loro vado a prendere da sola formaggio che torna indietro sono morta allora però dai forse mi chiamava sempre 30 da due 20 punti ogni volta 20 no ma va bene così no non va bene così ma ce la facciamo non fare ci mancheranno queste stelline prima o poi ce ne pentire lo so lo so e torneremo indietro e decideremo di non fare questi livelli perché sono dei pezzi di me ma chissà di sicuro questo più di quello dove c'erano le livello bonus quindi è difficile e quindi andiamo a quello classico è di fondo va bene è apparso il livello di kevin va bene numero 5 proviamoci capperi aggiungere di kevin il cane si chiama kevin quindi ne abbiamo altri non li abbiamo fatti cosa dire che odio l'odore dei miei capelli e sono puliti allora agli a carne o verdure aggiungi la farina poi cuoce vapore no non posso non lo posso mangiare prendo il fuoco anche se sta facendo solo il frullatore si questa cosa si non mettete le cose direttamente del frullatore togliete la ciotola e riempite tutti gli ingredienti prima di ho detto che era difficile la farina la farina da questa parte ma cosa stai scherzando ok questo è da cuocere al vapore ma non è da cuocere al vapore allora la farina mi metti un gambero io metto una farina gambero l'ho messo la fine di metterla nei un metro altro qui non metterla lì io carne o che serve manzo qualcuno ha tagliato manzo non lo sto tagliando vabbè almeno eravamo verso il vento no 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 smorta tutti che bello perché non lo mette a cuocere allora non lo mette a cuocere allora poi non lo mette a cuocere all'ora ok consegnato come no vuol dire che non ha finito di cuocere come dovrebbe essere questa cosa che uno non può fare un cazzo giusto c'è un pesce da consegnare un piatto un piatto un piatto morto non è da cuocere guarda su è da cuocere mi sono incastrata di vento questa cosa è solo da buttare allora boh non me ne ne frega un cos'è il tocchi non volevo il salmone non mi interessa al tavolo uno salmone ha ordinato da violi ha ordinato una famiglia perché perché ha dato il salmone io la vedo perché adesso dicevo in mano un piatto dove è finito è morto marina e carota c'è il salmone il salmone 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 grande arrivando il piatto il piatto ce l'hai tu il gioco mi ha glicciato fuori dalla mappa col piatto pronto in mano è stato bello però vederti l'hai visto l'hai visto il piatto non c'era più e non c'era anche io più niente neanche io ma i piatti sono da lavare le salmone palloni non che abbiamo consegnato molti piatti ma io dove sto andando questo piatto boh io consegno questo non so cos'è ci ha detto preparazione ho salvato qualcosa sì e io l'ho consegnato non mi ricordo non lo sappiamo cosa va bene così c'è questa cosa che invece sono gli invaderi tirare di brutto allora c'è del salmone che non serve a nessuno poi ci sono dei piatti che si lavano i piatti ma scusa non è da cuocere la carota perché non me la fai mettere a cuocere gioco di cacca da mettere nel frullatore michela marta con la carota sì praticamente i simboli oggi non mi ragazzi non ci sto capendo niente abbiamo finito quando mi tento di aver scelto sto livello io te l'ho detto neanche una stella comunque ma certo perché abbiamo passato il tempo a essere inventiti però è una sfida questa è una sfida no 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 egli ha detto che si è pentito e quindi dobbiamo fare le stelle dobbiamo farle no 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 allora allora la sfida per farne una me la posso anche accollare la sfida per farne tre almeno una raga cioè dai proprio almeno tre allora quello che dobbiamo fare è non usare le cose nella strada ma questo significa che non possiamo fare un cazzo allora bisogna coordinarsi secondo me bisogna tagliare tutto e usare i banconi come spostamento uno stradesso nel mentre non possiamo fare nulla possiamo tagliare salmone e carota che ci serve carne qui tagliamo le cose perché siamo protetti poi quando i taglieri sono su strada bisogna mettere a frullare e fare i cazzi esatto è un casino scusate mi ha fatto messaggio da mia madre che avete eliminata dal gruppo che quattro in a io non ho fatto nulla se l'avete eliminata dal gruppo però non l'ho capito adesso come è successo mi ha scritto con l'altro numero nel quale lei non è non è il gruppo mi ha detto che non c'eri non c'eri ma scusa aggiungete entrambi i numeri al gruppo anche se bellissimo mi ha eliminato sì stavamo parlando mai di te sul numero vecchio bellissimo va bene allora riproviamo questo quindi una volta riprova riprova vai aspettate che mi è datemi un secondo che ordino le pizze che arrivano tra 35 60 minuti quindi devo ordinarle adesso se non lo mangio mai io quella col mal di stomaco si piace perché da mangio è un casino c'è sempre tantissima è l'unica pizzeria che fa davvero senza glutine a cagliari e quindi è sempre così perché non avesse visto il segno è molto pieno il segno qual'era quello delle manina che si chiude si è il segno il segno è il classico non è mamma non è convinta mi ha risposto ok ciao segni pizza presa possiamo giocare fino sicuramente le otto e mezza ma vediamo adesso allora che dite questa non finendo amicizie dan ma che no però qui veniamo in vestiti di brutto qui si muore di più ma perché quelli bonus sono più difficili ma è normale bene ma non benissimo in che senso in che senso cosa è successo ah no per noi per noi per noi stava prendendo per culo ok io non so come organizzare perché tanto veniamo spinti dal vento quindi fate cose perfetto io da che parte sono qui allora facciamo una cosa invece che morire ci lanciamo le cose di là ma il problema è che le cose qua devi spostarlo e metterle ok a vaffan cuffia no perché dobbiamo quando ci abbiamo capito e no non fa che dobbiamo quando passa la macchina però uccide anche però che stai lanciando si si uccide uccide crudele col mondo qui perfetto questo non è il gambero serve sarebbe che chi sta da quel lato non viene anche da questo perché altrimenti non c'è mai nessuno che può assicurarsi che la roba non bruci certo anche nel frullatore per qualche caso allora raga quelli sono pronti sono a mettere a cuocere non è successo c'è la morte è sicura è quella che non fa carne carne l'hai salvato per miracolo mari lo sai vero si fai finta di niente e poi mi emoziono o no questo è andato gamberi consegnati vento del cane consegnato ok questo fa metterla a cuocere ok non passo che c'è l'idrante dove sono ma io avevo una cosa in mano non c'è da mettere nel frullatore insieme alla farina a se facendo tu faccio io a ma pesce gente ok adesso serve la carne la carne ce l'avete tagliata io che avevo in mano io ce l'avevo ma è qua qua la carne ok no no forse sei salvato la carne prendila prendila ho salvato la carne è morta qui non fa niente crei l'importante che hai salvato la carne ma io chi sono qua ma io chi sono ma dove sono chi sono come mi chiamo bisogna lavare i piatti anche ce l'ho fatta che fatica che fatica morendone è morta di abito sono di nuovo morto e allora lì c'è solo un turno c'è un piatto io sto al costo qualche cotto aspetta la pace pari cose consegnate l'ho consegnato la fregata io ho il pesce in mano consegnate per io non me ne frega un cazzo per far ridere di nuovo farina non ce la posso fare un gambero sta per arrivare io lavo i piatti ok la farina non l'ho presa farina l'ho presa io una ok ok è morta perfetto morti così come se nulla fosse in tre allora mentre crei lavava i piatti con serenità ma porca cazzo ok ce l'ho fatta allora 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 questo è pronto ok permesso ok a cuocere sta cuocendo sto qua che cuoce aspetta aspetta ti avvicino un piatto ora farina e gamberi farina e carota farina e carne c'è non sono morta per miracolo gamberi qua ok mi serve una farina ma porca zozza ma porca zozza ok ok farina e carota farina e carota sta andando serve la farina per i gamberi e carni allora dopo ok io sono viva non lo so perché quindi l'ho messo a cuocere allora gamberi e farina sta andando che ci servirà poi presto metterlo serve un piatto perché è quasi pronto di là è porca zozza quando te consegnare consegnate consegnate grande ma non lo fa fare da passare che devo tagliare la carne e togliete un po e vabbè però forse ce l'abbiamo fatta va bene sono apporto così io una serra va benissimo e tra l'altro 20 punti dalla prossima più o meno 30 punti no 21 no ma den siamo morti tutti e quattro insieme prima è stato bellissimo si è stato molto bello tutto molto interessante è più competitivo sto gioco di code beni a silano devo mandare un messaggio vocale a mia sorella mamma si è lamentata che abbiamo tolto il suo numero vodafone dal gruppo in cui non è mai stata se stava era molto molto offesa e adesso come farete a farvi perdonare mi ha risposto mamma ah ok come faccio a farmi perdonare non sa ancora che domani non vado in paese lascia perdere che appena scopre quello è la mia morte questo è vero perché domani non vai perché non sto bene e quindi evito vabbè no certo se non stai bene ci manca anche solo che li contagi sei davvero qualcosa quello e poi sono è un'ora di macchina quindi no ma poi anche solo per il fatto che va bene che sta a casa una volta poi c'erano ieri loro hai anche visto il cane ieri o no sì c'era culetta che veniva a far lavorare con me bellina si chiama annala ma io la chiamo culetta io la chiamo culetta allora qualcuno riesce a tagliare la patata un pollo sta cuocendo dove sono io ok il pollo ce l'ho fatta ho salvato il pollo allora io sto cuocendo patate a quanto pare asco io il piatto lo consegno arrangiato amici e che centro io mi butti giù che c'entro il tubo le patate le patate no le patate sono il piatto il piatto cosa cazzo stai che scusè ho fritto le patate bisogna consegnarle sono morta con i piatti aspetta adesso le patate le prendo io vedi che cosa è successo che ho vinto per rapare verso il niente non lo so non lo so non lo so dove sono i piatti ah o che lì sta la maniera cuocere madonna michela io non sono morta sono molto confusa sto cazzo di vento mi sta mandando poi aspetta ma ha il pollo da consegnare adesso ma perché ho preso un piatto sono prendendo le patate patate cotte c'è già su un piatto salire dal pollo cosa sta bruciando eh niente non l'ho salvato caduto caduto dove è lo spinto sono tutti in acqua stiamo vedendo fuoco alla cucina c'è la ecco eh li spegni non ce l'ho molto male eh ma fanno do fuoco tutto fanno do fuoco anche su eli quindi è andato tutto così è così che bello come cazzo è l'estinto no io non posso l'opera eh facciamo che mentre eravamo tutti morti facciamo quello di facciamo anche perché abbiamo fatto zero quindi vedi no non fa allora calma un pollo con le patate guardami c'è l'ho lì è l'italia patate allora il po ma il po è lì sì ma mi ha aggiunto tutto addosso che volete io praticamente continuo a essere stinta il pollo il po ho salvato il pollo sì ce l'ha copiato lì però eh ma non riesco a prenderlo si è gliciato a terra un pollo da solo e un pollo con le patate raga ma le patate stanno cuocendo perché mi sa che allora cerchiamo da solo c'è già lo vado a consegnare io appena spawn aspetta appena spawn perché c'è anche un altro pollo allora aspetta un attimo che gli do questo con le patate prima pollo con le patate vai ok fatto poi c'è una patata in terra qui stavo cuocendo le patate ah cazzo mi dico che dovresti cuocere il pollo ma perché ah e io l'ho messa prima di loro no no dobbiamo cuocere tutto non ce ne frega un cazzo qui ci sono le patate che stanno cuocendo e sono quasi cuocere le patate sono pronte anche queste no il pollo ce l'hai tu in mano cuocilo cuocilo ma c'è un altro piatto no ne abbiamo due giusto sono la lambe allora aspetto il pollo e consegno un pollo con le patate poi possiamo consegnare e non ce n'è il pollo perché c'è la friggettria ah ok no ce l'ho io sì 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 anche io la porca se non fosse che io continuo semplicemente a morire perché rispauno e mi spinge rispauno e mi spinge quindi sì niente allora le patate ci sono è fatica quello dammi che lo vado a portare di là che cos'è che non ti prende e di là in fondo Kree dai a me no ok vai pollo ce n'è un sacco ma sì perché cuocilo bimbo allora due polli ma porca porca allora un pollo lo sto consegnando uno ok consegnato ok un pollo due patate lo consegno un pollo ah un pollo è lì ok c'è il piatto perfetto serve anche una patata da consegnare pollo consegnato ma vaffan cuffia e le pioche ehi il pollo ehi il pollo grande sì 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 ho messo a cuocere patate e mettilo nel piatto il pollo ok aspettate ci sono due patate senza pollo raga ho lasciato il pollo che stiamo cuocendo patate io ehi le patate grande cric ok quelle patate queste patate i piatti svolghi ok ho salvato le patate ok il piatto è il piatto vai vai tanti piatti piatti allora patate guardate consegnate una asco consegnate il pollo almeno sono punti ma vaffan cuffia allora ancora una patata e poi una patate pollo allora io sono avano il piatto e il pollo dell'italia abbiamo scoperto tutte le aree e i livelli nei giochi principali quindi era l'ultimo livello come l'ultimo livello non preoccupare o tutti o tutti 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 i livelli tranquilla ho anche i giochi extra o varico cioè non finisce qua overcooked ma manco per il ca ma manco per il pa anche perché se no torniamo dietro vogliamo tutte tre stelle prima di arrenderti comunque mia madre si è lamentata anche con mia sorella compresi i livelli di kevin soppiatelo no i livelli di che vinco a no c'è ancora ma allora perché cacchio o è l'ultimo questo e questo non li sblocca se non abbiamo tutte le stelline sushi sushi che no ragazzi è quello con i pulsanti ma bello diciamo per tutti o no è quello con quello o no è quello con quello devi fare invertire l'ordine il pulsante inverte l'ordine della cosa che gira quindi la roba io dove sono io sono qui ok ok to ho il riso ho lanciato il salmone dall'altra parte i due ne abbiamo per caso aspettate che recupero un'alga allora io allora l'alga ce l'ho qua mi serve un riso io c'ho il piatto e mi serve un un cetriolo cetriolo ok sto tagliando il cetriolo come cacchio faccio a portarvi a ok ok si l'ho visto metti mario ok perfetto ai consegno il prossimo è solo cetriolo però serve un piatto il piatto ce lo potete passare ti fanno alga e cetriolo ok poggielo e schiaccia il pulsante ma rischia schiacciato no no ma perché non era giusto il pulsante mi chiedeva infatti mi sono qui mi cipra il piatto ma dove si lava sono da voi ma infatti i piatti sono da loro la voglia allora qui c'è un altro piatto sporco chi è ma il salmone già arrivando giusto da tec il piatto a ma fa il giro dall'altra parte ok ok che capita adesso allora sì allora lo mettono giù in realtà è più al sicuro ok il riso il piatto no ok perfetto faccio allora non so perché alga salmone no mi serve il riso e il riso ok di prossimo eri salmone cetriolo si salmone uno l'ho recuperato mi serve un piatto pulito a via vicino i piatti no se lo metti in quello di dietro almeno non muore cioè c'è il tempo di arrivarci allora mi ci mettilo da lì attenti che c'è un cetriolo che muore ma che ha fatto devo evidentemente devo avere una dote anche a fare cetrioli non si spiega allora va bene schiaccio il passante schiaccio il passante riso ok ma porca spiega il salmone è andato a trote a trote stanno per arrivare lavando lavando perfetto quindi abbiamo io salmone o i risi pronti cioè del che continuano ad andare in tutte le direzioni ma non credo allora il prossimo è dammi marie allora salmone il prossimo cetriolo porca zozza perché mi lancia il piatto perché non mi ma consegna sto cazzo di salmone frega no è con tutto il prossimo l'alga dove l'alga ma non hai l'alga dammi molla ferma ok vai ok ragazzi l'alga nel centrale l'alga ce l'abbiamo abbiamo il cassettone per l'alga per fortuna quindi anche se non gira quella non fa niente mi serve un piatto per consegnare il salmone allora il salmone da questa parte amici giro nell'altra parte ok salmone qua ok serve un altro sale salmone ce l'ho per consegnare al prossimo cilava i piatti ce li dà ragazzi ok ok così perfetto un po posto ok che 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 un altro piatto no no torna indietro raga sì perché a me la da qui non me lo fa cliccare amici il piatto sporco amici cacca non me l'ha fatto prendere ok ok si che te l'ha fatto prendere non si capisce anche in pilati cosa che non fa mai va bene allora vabbè vabbè raga aspettate un attimo devo allontanarmi in seconda tranquilla per me una stellina vale o non vale come no e no come fa a valere almeno due almeno che palle da amici uno standard almeno non è tutte e tre che fa che non fosse tutte e tre era certo ok almeno vediamo di far l'essere tutte e due per me quelli di kevin quelli di kevin fanno proprio peccato e se l'avevo detto ma ma c'è ancora ma si decide il gioco perché fatti metto sta roba ma cosa ti ha detto chi mi ha dato un trofeo hai trovato hai finito tutte le zone del del gioco sempre sei ma proprio azione mia ma poi non può essere che è finito il gioco perché ci sono se giri ci sono no le zone guarda leo o anna tre sì no forse sono piccioni per me sono a tre non il bike il collo verde verde a me erano tutti grigi no anche se dal tonico ok scusa può essere che colore lo vedi il prato è lì il grigio anche ok beh dai dai e la l'alga qui giù del sushi quale alga per l'alga del sushi ah c'è un sushi sopra la una una un edificio giù in basso vicino all'14 tipo verde scuro lucido metallico e quindi tu il verde lo riconosci non sei come i cani i piccioni sono verdi scusate non vedi che stanno passando delle altre esperie lì erano piccioni ma hanno palesemente il collo verde quindi sarà alla tre passano vedi ti concentri e lo vedi che è verde guarda guarda vedi è una sceglia piccola piccola ma è verde non ho capito scusa nel gioco stanno passando le anatre ogni tanto volando gli uccelli che passano e noi stiamo dicendo che sono anatre perché hanno il collo verde e secondo lei invece erano piccioni tu manchi mezzo secondo e succede questo ok ok va bene lo rifacciamo però un pochino perché lo stiamo rifacendo non è vero volevi rifarlo anche tu non volevo rifare anche io io odio ripetere le cose rifarle no è vero volevi rifarlo anche tu no circa allora io ricomincio a fare il salmone ho mangiato in faccia il pesce a Eli girate girate il pulsante ok grazie ce l'avete anche voi il pulsante con la parte uno vale l'altro il riso ok ci serve un salmone tagliato che sta mettendo giù grande sta facendo questa cosa mette il salmone grazie una porca zozza salmone consegnato come è successo qua chi è che mi ha lanciato un cetriolo qui perché ci sono io cetriolo e salmone no perché ho sbagliato ho buttato anche il piatto ho sbagliato ho buttato eh non lo so no ci serve il riso e è un piatto il piatto sta arrivando con lo sporco rimandami quello sporco aspetta che ok tieni caccia pulsante mare il mare si è spursante ok non lo fa schiacciare il pulsante lo fa schiacciare solo quando decolo è giusto allora riso 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 sposta riso riso risposta cetriolo il piatto il piatto ok ok vai cetriolo e il riso no che c'ho fatto ok piatto sporco preso salmone riso e alga salmone cielo e lì sta facendo salmone come se non ci fossero domani switchati i piatti sono entrambi i porti ok devo switchare non ho fatto non posso riso grazie no 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 ho buttato tutto perché certo ci ho preso il piatto piatto dove cazzo è la pezza piatto ragazze recuperato salmone abbiamo detto salmone abbiamo detto maria e riso mari ok cosa ho messo il riso e ma non dove dovevi riso ora ora riso salmone cetriolo e alga ok cetriolo ce l'ho mi serve il riso il salmone salmone è qua e a maria aspetta grazie non vuoi che io metto il riso però non prendi il riso o ti decidi o ti decidi cetriolo ma c'era un cetriolo ed è sparito va bene va bene ok ok mi serve un riso sto arrivando a prenderlo e consegno ok adesso serve solo salmone arrivo ok perfetto così il prossimo è cetriolo solo salmone il prossimo è questo fatto il risiccio il pulsato vai a posto io adesso l'avo sì sì mi serve per consigliare salmone salmone c'è e sì mi serve il piatto almeno non è salvo ogni tanto qualcuno perché il piatto è più urgente hanno che tira la 62 perfetto l'ha switchato ok quindi il salmone c'era ai consegna il prossimo è cetriolo c'è chi ora alga il piatto 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 ok grande ma fa culo no non fa niente è peggio di prima o no sì ci devo rifare ci devo rifare dai dai possiamo farcela che siamo farcela raga dai amici aspetta che metto questo incarico oh ho fatto crack io lei tutto il suo essere ha fatto crack ho fatto crack ahia ok avete fatto cerchio o x perché io mi sembra che ho fatto x che sono cogliona io non ho schiacciato niente perché ho fatto io x uiwe uiwe ui ui raga comunque le alghe ce le avete voi e il riso sì sì quello stiamo facendo noi ah ok allora non mettetele sul nastro no no le mette il gioco ah ok ok le mette il gioco vedi che sono già in nessun astro Allora salmone e riso Alga la penso io Ok il riso è pronto Il riso è qua Il salmone sta per arrivare Io aspetto i piatti Sì me lo passi qui il piatto di giù per favore Ok il piatto Aspetta switchato Consegno il salmone solo Grazie Eli Bisogna riswitchare per darvi questo piatto da lavare Ok Cosa cazzo ho fatto? Cetriolo salmone Ok grazie Allora qui ci sono due risi già cotti E criti mando un altro piatto da lavare Visto che ora è giusto quindi lo prendi e lo metti lì Sì aspetta Ok vai Sì stavo aspettando che girasse Ok quindi Devi metterci il cetriolo Il salmone e il riso Sto arrivando per il riso preso Allora Il prossimo è il cetriolo Adesso la chiaco Sì l'ho visto Serve Aia Tagliato qui E lì continuo a lanciarmi il cetriolo in faccia Cetriolo Salmone Ok mi serve un piatto Il piatto per chi da lavare Che è giusto Aspetta che ti sto per svicciare Vai Adesso Il prossimo è il cetriolo Ce l'hai il cetaccio C'è già C'è già C'è tutto C'è tutto Mi serve il riso No però prendilo tu Perché poi rischiamo di buttarlo Ok quello in mezzo Non ha finito di cuocere Mari Perché non l'ha consegnato No non l'ha finito di cuocere Perché non l'avevo proprio messo Ah ok Perché non Allora questo stavano nella parte sbagliata Switchatelo Non te lo fa svicciare No mici Si è solo recupero Vai Ok Aspetta che recupero il riso Ok Salmone E E basta Quindi serve il piatto Aspetta che venga a svicciare Cri Il riso ce n'è Immagino che si Ok Ah cazzo però Ah vieni Ok Adesso serve Col cetriolo E l'alga E basta Si mi serve un piatto Aspetta che venga a svicciare Ok Ok Il riso cotto è questo qua In fondo Gnagna se puoi piatto Si E Alga E il riso Questo me lo chiamo Quello ok Adesso serve Piatto perché devo consegnare il salmone Solo Tanto criccia l'ha il piatto Si me lo sta portando Aspetta un attimo Aspetta Ok vai Perfetto Ok Adesso serve Cetriolo E Eh Ma non lo stiamo facendo Lo stesso Aspetta Ok vai Tirare i piedi Mici Tirare i piedi E' tipo Porti sfortuna Ah Non ce la stiamo facendo Ma è vero Ce la stiamo facendo Ehm È lento il Fili Ok ti sto mandando un altro piatto Ecri Così puoi piacere di nuovo Ora Ok ma serve il piatto Tipo urgentissimo Ok Allora No Ce la faccio Il salmone Vabbè ma 5 Ma scusate Aspettate un attimo Due stelle Due stelle Chi era? Ah le pizze Sono arrivato le pizze Sì Meglio Così se le mangi subito Scusa Mica la puoi lasciar raffreddare Uh Due stelle È arrivato prima Vabbè ma ce la Scusa Ah non ho guardato il telefono Scusa È stato tra mezz'ora E sessanta minuti Quindi È stato più veloce del solito Evidentemente Magari non aveva Nessun altro ordine In quel momento Ma meglio Scusa 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 Va bene E allora Devo andare Scusa 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 Vediamo giusto La prossima volta Come moriamo Ah questo L'abbiamo provato Da poco Davvero Assieme Io te solo Ah no O con loro Mi sa che l'abbiamo provato Con Josh Ah con Josh È vero È vero È vero Già Già Si muore Io ero Sempre morta Oh per cominciare Secondo me potrebbe essere Proprio un bel livello Certo Certo Mezzo di quello di oggi No Ma continui È già tanto se ne prendiamo due Boh Il meno male è che ne abbiamo 56 Perché Sì Abbiamo un po' di margine Sì Quando la prima volta che abbiamo giocato E lei Non c'era il margine Ogni tot Dovevamo tornare indietro E rifarlo Perché Una una Ce l'abbiamo fatta Quante stelle bisogna fare? Praticamente 41 e ne abbiamo 56 Quindi Sì praticamente Quante servono? 41 E ne abbiamo 56 Man mano che vai avanti Ogni livello vuole Un tot di stelle Minimo Per farti entrare Nella serie Guarda che hai fatto tutto a uno Quindi non ti faccio andare avanti A un certo punto Ah ok Una cosa del genere Però per l'altro abbiamo del margine C'è l'indietro? Sì Perché sei dentro tu? Spero che sia tornata mamma E non abbia aperto la porta al cane Sta parlando del gatto Il cane che apre la porta Fa molto ridere Allora Fa ridere finché non ti entrano in casa Topi e Geki Perché qualcuno Questo specifico di gatto Li porta vivi Che bello Che bello Ma credo che sia tornata mia madre Non è possibile che Igor abbia aperto la porta E sia entrato biondino Biondino Ti hanno fatto entrare O sei entrato da solo? E ora biondino Gli rispondo ovviamente Te l'immagini Così sì che E dunque Va bene Dai Ci vediamo lunedì Con Marta is dead Con Mari Iniziamo quello Sì dovrei farcela io lunedì Ok Ok Va bene E poi se siamo vivi Venerdì prossimo Continuiamo Questo Lui Quel livello brutto Va bene Io ultimamente Sono fisso male Per quello Di che siamo vivi Cioè ho ordinato la pizza Ma non so se riesco a mangiarla tutta Certo è di stare viva Tu Io ti provo Ma non è detta Se la smettono Di farmi contagiarmi Dai Ciao a tutti Ci vediamo lunedì E buon weekend Grazie Grazie Buona serata Ciao Ciao